ok ciao a tutti allora faccio un vlog veloce faccio un vlog veloce per dirvi che allora sto iniziando cioè voglio iniziare una collaborazione con falso nome che è un canale italiano di un ragazzo che ho conosciuto tramite boring jupiter 4 e si voleva iniziare questa collaborazione niente volevo di questo poi vabbè ho delle novità da dirvi che sono diventato partner di youtube e probabilmente diventerò partner anche di freedom e inizierò a guadagnare con adsense però devo collegare l'account nulla questo comunque ora l'importante è fare questa collaborazione con falso nome e vedere un po come vanno come vanno le cose vedere un po che tipo di video fare io pensavo di fare tipo gameplay di minecraft se no che cazzo di gameplay vuoi fare comunque ora non lo so ci devo pensare quindi vabbè ragazzi ci vediamo ciao